Allora io sono Marcus Crane, signore e signori bentornati in una nuova puntata della Simple Life 2 Nell'ultima puntata, guardate Sara che va a costruire, abbiamo fatto due strutture importantissime Che sono BIM, no ancora un po' BIM, ancora un BIM, BIM, no liscio, BIM, eccoci qua Eccolo qui, il farmer che sta arando i campi e sta producendo un sacco di grano, proprio un sacco un sacco un sacco E di qua, da quest'altra parte, il mulino, ovvero il forno in realtà, è un mulino forno In contemporanea come potete vedere il nostro amico sta lavorando, hop là, et voilà, va alla grande Sta bene, ha 9 di skill, queste caratteristiche non sono male e signori, abemus pagnotam Quindi tutte le volte il nostro delivery man andrà a prendere le pagnotte e poi le andrà a depositare dentro le cestine Non so perché non è passato molto tempo, l'ultima puntata vediamo un po' se già ce le troviamo Si, I need wheat, quindi ancora non ce le ha lasciate, vabbè poco male ce le farà il prima possibile Andiamo a vedere però, secondo me il nostro problema è Ubaldo Capochino ragazzi Guarda io lo so che sta lì, io lo so che Ubaldo Capochino sta lì Guardate, si è impicciato, si impiccia sempre Ubaldo Capochino, mi hai quasi rotto il cazzo Guarda, te la levo, così smettite dove c'è andata, guarda, togliti, vattene, sciò, espelliti, sparisci, no si incastra, lui si incastra qui C'ha le sue cose, però rimane incastrato lì, sto babbe oide Comunque oggi niente ma in Colony, adesso risolviamo il problema di Ubaldo e poi andiamo a dedicarci a quello che voglio fare, Recall Eccolo qui, adesso dovrebbe riprendere e non dovrebbe più vedere quella struttura, ok? Ehm, no, Ubaldo non c'è più niente perché vuoi andare lì Ubaldo Ubaldo ma sei ritardato È ritardato ragazzi C'ha qualche, ok che non è proprio, non sprizza intelligenza da tutte le parti però non pensavo fosse così ritardato Invece no, è così ritardato Comunque, quello che voglio fare oggi non c'è niente con la Mike Connery Malgrado qua dietro stia costruendo un altro Citizen Guard Perché ho letto sulla wiki che vuole tante ads quanto è il livello massimo delle costruzioni Quindi per avere due ads la felicità aumenta un pochino più velocemente Oltre alla saturazione e a tutte le cose Quindi scendiamo giù nel nostro hub tecnologico Buongiorno, ancora tecnologico c'è niente ma Adesso invece signori noi andiamo a iniziare l'elettricità Oh yes Per sbloccare le motor machine ci serve un basic capacitor e un machine show Non l'abbiamo mai fatto Macine Perché macina, macina Cioè serviva lo steel E adesso grazie a questo ciccio ciccio Di steel ne abbiamo davvero tant Cioè non tantissimo Però una buona quantità Che schifo non fa Quindi andiamo a fare subitissimamente il nostro ciccio La redstone non ci manca Il builder dice che c'ha bisogno di qualcosa Io sinceramente adesso il builder non me lo cago Manco se me paga Facciamone più di uno Perché di solito ce ne servono molte più di uno Ok Bam Quattro E andiamo a fare Sbalabim Quattro machine chasing Mentre il quarto riguarda il capa Pronto Capacitor Capacitor ragazzi Ci serve copper e oro Oro eccolo qui ma anche qui Ah ok C'avevo delle golden nuggets Non lo sapevo Mentre il copperigno Eccolo qua Uno solo Only one che è hobby Andiamo a controllare qua sotto Ma no ma non è vero Ma non è vero Non tu menti sapendo di mentira Menti sapendo di mentira Ok Sbram Sbram Ne abbiamo fatte tre E signori ci si sblocca questa questa Ci da altre cosine Grazie Ma soprattutto ci sblocca La modern machine Oh Oh yes Oh fucking yes Ci interessa il silicone subito Davvero Oh attenzione Oh no ok si Silicon Andiamo a vedere il silicone come si ottiene Dentro il SOG 1000 Ci mettiamo La clay La sand La sand mi pare che sia 50% Esatto Però non mi Mi dovresti far prima sbloccare questo Solid fuel E poi quell'altro Sei un po' Sei un po' strunzo Se devo essere sincero Ma non fa niente Non fa nientissimo Ah forse sapete perché Perché lui crede Che io come elettricità Ho già fatto qualcosa di qua Qualcosa della Della electrical Electrical age Ed effettivamente Potrei anche volerlo fare Oppure no Perché effettivamente Potrebbe essere come abbellimento Ma potrei anche Non voler fare L'immersive engineering A meno che Quei cosi che non ti scavano E che ti danno un sacco di I materiali Sarebbe interessante Comunque qui I cicci stanno soffrendo Perché gli serve cose E purtroppo Diciamo Il nostro delivery man Non è Il più genio di tutti Quindi ci metterà tantissimissimo Come il suo solito Bastardo maledetto Qui si è riempito di Di nuggets No mi fai mettere Ok Non posso Oh oh Va a fanculo eh Va a fanculo Va a fanculo Queste cose Qui devo dargli Una diversa collocazione Perché si sta Si sta davvero Impallando tutto quanto Anche se ho fatto Altri di questi Ma credo che sia Giunto al massimo Esatto Non può Non può farne di più Quindi Facciamo così Facciamo che Andiamo a prendere Il Surnace No come si chiama Aspettate Enderio Da tantissimo Non uso l'enderaio Enderio Lo Stirling Ah si chiama diverso Combustion generator No Questo è Barn liquid fuel Si 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 Lo Stirling Eccolo qua Lo Stirling generator Vuole delle basic gear Che si fanno Con le iron nuggets E Sempre Steel Cazza Bubbola ragazzi Guardate che vuole Vuole il cook brick Ma stai fuori Ma c'è Zio Stai fuori E Davvero Implementato Alla grande Ok va bene Se proprio vuoi il cook brick Noi ti daremo il cook brick Andiamo a cercare la nostra clay Che ce n'è un botto Sono sicuro di averne Tantissimissima Eccola qui Bam Non è così Poca Giuro che è Di più Però adesso Voi ne vedete di meno Perché Gesù ci odia E La sandstone La sandstone Voi Marcus Cron Non c'è un baco di sesnone La facciamo così E facciamo così Tate ticchete Bam 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 Ok Stiamo conquendo questo La sand la rimetto A posto Andiamo a vedere Che altro ci serve Una fornace Giustamente E andiamo a fare Queste Queste gears Sinceramente Questa mod Non la conosco Questa qui Ah E' del landeraio Ok Forse ho sempre Giocato landeraio Insieme Alla termale Quindi c'erano Le sue gear Esatto Può darsi Forse Credo Suppongo Andiamo a buttare Dentro queste cosine Qui Ci serve La fornace 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 Cobblestone La fornace Che chiama Gobblestone Eccola qui E signore e signori Dovremmo avere Il tutte cose Bam 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 E non abbiamo Il dispenser Ai 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 Se faccio un figlio Ai 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 Lo chiamo Emilio Che è sempre In meglio Di Basilio Ma il dispenser Non ce l'ho Esatto Non abbiamo il dispenser Lo facciamo subitissimamente Se trovassimo Delle String O lana Colora Eccole qui Eccole qui Come potete vedere Le stringhe Cadono copiose Dal cielo Perché Che lo fanno Ogni tanto Talvolta lo fanno Andiamo a fare Il nostro Archetto Eccolo Non posso buttare Le cose di sotto Sì che posso Poi ci mettiamo La nostra Gobblestone Un pezzettino Di redstone Vieni qui da me Ok Togliti 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 C'è uno spazio La crafting station Davvero Non lo sapevo Ok Fantastico E abbiamo Il dispenser Quindi signore e signori Non abbiamo più questo Quindi signore e signori Oh Lo steering generator Oh yes Oh Madafaka Oppela 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 Un buco Salve buco Ce lo mettiamo qui dentro E ci buttiamo un bel combustibile Un bel combustibile Tipo Tipo il charco Ma sì Ma perché no Energia Sì Oh Adesso sì Un bel po' di energia Ragazzi Io direi di farci Subitissimamente Un bel So mill Lo so Lo so Lo so Ho l'inventario pieno Come la merda Mi dovete perdonare Facciamo così E buttiamo tutto dentro Ricordandoci Che abbiamo un pochino di cose Che ci potrebbero essere utili Tipo questo Tipo questo Tipo questo Questo qui E andiamo a mettere le cose Invece che ci saranno sicuramente utili Qui dentro Mi è venuta un'idea Per zompare totalmente un passaggio Perché sì Ho fatto questo un po' Preda dell'abitudine Ma mi sono ricordato Che abbiamo le endertank E che ho visto poco fa Quel coso Fu Engine Vediamo No Fu Già me lo sono scordato Quindi pensate quanto La mia capoccia Ender Io Eccolo qua Il combustion Generator Noi potremmo Ok Potremmo Andare nel nether Pompare Via Il L'ottima lava E avere la scorta energetica Grazie a questa Oppure potremmo fare Il bolino Dell'immersive Non lo so I very don't know Ci sono tante 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 opzioni Ma ci interessa Avere il silicazio Quindi silicone Oppela Si fa Come abbiamo detto Dentro al suo milla Quindi andiamo a avere Il suo milla Eccolo qua Di nuovo Ci serve il pistone Del ferrozzo Quindi della redstone Della flint Abbiamo della flint Ma C'è che abbiamo Voglio sperare Che abbiamo della flint Tre pezzi Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Sono felicio Sono un marcos con una felice Cobblestone Per fare Il nostro tutte cose Un po' di legna Per fare il pistone Quindi tre pezzi E questo ce la ripetiamo E basta E basta Dovremmo Dovremmo esserci Hop Hop Guardate quanto sono piccolo Che non cambio Per di andare qui Intanto passa un caccia supersonico Questa qui non era cobblestone Era cobblestone Era cobblestone È cobblestone Non so perché Non so perché non gli andasse bene Come mai non ti va bene Chico Scusa Ah È ritardato Va bene D'accordo Ah Non c'è il ferro Guys The iron Eccolo qui Eccolo qui Non vedo l'ora di fare quel coso Che ci aiuterà moltissimo Opela E ancora l'iron Opela Quella che c'avevamo nell'outzone No Oh Sowill Yes All tasto No Ok Scusate Allora noi abbiamo della send 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 Eccola qui Ci andiamo a buttare tutta dentro Tutta dentro E ragazzi Somigliamo E otteniamo il silicazio Quanto silicazio vuoi? Quattro di silicazio Tre Due Uno Quattro Mi sa che ha modificato le cose al cento per cento Lo clamiamo E ci abbiamo anche Questa Che non me la vede Ma adesso facciamo così E ciccio ciccio Me la Ce l'ho Ah no Posso clamarla Sono un babbeoide E queste qui Non ce le abbiamo Sono Sono Che cos'è questo? Sowill Ah posso prendere Bello Cosa Smeraldo Smeraldo Sicuramente smeraldissimo Guardate qua Alick of paint Ok Il farmland Buonissimo Il wireless charger Ci possiamo fare l'armatura Ci possiamo fare Unlimited power Con le capacità bank Molto 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 interessante Molto Molto interessante La mia parte Intollerante Ok Let's go Allora Voi pensavate Che io adesso Mi mettessi a fare Tutto quanto Sì Perché questa La cosa Tutte cose No ragazzi No 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 Ci sono mille possibilità Ma Quello che mi interessa A moi È il sommille Esatto Il No Scusate L'alloy smelter Perdonate Io ho confuso Ho confuso il nome È l'alloy smelter Perché Marcus Crone Ti interessa L'alloy smelter Ragazzi È presto Detto Lo andiamo a metterla Qui sopra Il nostro Il nostro produttore Di corrente Benissimo Andiamo anche a Congratularci Perché abbiamo fatto Questo qui Grazie mille No Il suo mille Già abbiamo fatto Che è questo Sì Ci dà due fire charge You can also increase Your steel production By combining iron E fire charge Into un noise smelter Oh thank you Thank you so much E guardate qui Ci sono sbloccati Tutti i cicci 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 Ma Ma Abbiamo anche Uh È vero Abbiamo l'environment Abbiamo un sacco di cose Questa qui Che cos'è Xnet What the fuck Fermi tutti Sì Control Automatization System power Oh Bello Cosa Automagic Interess Ma Molto 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 Interessante Però Guardate qui Siamo Magical No Agri Eccolo qua Agri Esatto La mystical agriculture Per tutto questo tempo Noi avevamo sti semetti E non potevamo fare niente Perché Ok Potevamo fare questi cosi qui Perché I semi Non si fanno Come normalmente Ma dove stanno Ma si fanno all'interno Dell'alloy smelter Quindi lui ti Precludeva la strada All'inizio All'inizio te la devi cavare Con le tue Gambine Ma poi Ma poi Signori Adesso che abbiamo L'alloy smelter Possiamo fare I semi schifosi Proprio quelli Che piacciono a noi Quindi Ad esempio Se noi avessimo Un problema di Fammi pensare Fammi pensare Di lava Abbiamo Il seme della lava Land Cos'è questa cosa Land cluster Che schifo Non lo so Blades Però Vuole il livello successivo Ovviamente Quindi noi dovremmo iniziare Dal livello piccolo E portarlo al livello maggiore La domanda è Il farmer Della main colony Vede questi semi Me l'avete chiesto in tanti Live Io non credo Non credo Non credo Non credo Noi iniziamo a fare Dei semetti Mobidi Mobidi Vi ricordate che io C'ho C'ho questi qui Ragazzi C'ho il supremium Vediamo un po' Ne servono 4 Per fare il tier 5 Di crafting seed Oh accidenti Accidenti Accidentaccio Sono molto triste Guardate il diamond seed Ne servono 4 Che peccato Allora no Questi qui li lasciamo qui dentro Abbiamo Questi Questi E questi qui Tra l'altro Questi cosi si possono trovare Dentro le chest Quindi Ehi Che figata Andiamo a vedere I semetti Che possiamo fare Con questo Questo è l'inferior Inferior seed Ok va bene Abbiamo quello del ferro Quello del quarzo Niente male Glowstone Redstone Obsidian Il silverone Interessante Il lead Il clang slime L'ardite L'electrical Steel Redstone alloy Conductive iron E il quarzo Arricciato Quarzo arricciato Che ci serve ragazzi Per Bravissimi La praticamente Applied energistic Dei poveri Io direi che il quarzo È quello che gradisco Però Ho visto che c'è un altro Bilanciamento Abbastanza stronzo Perché lui vuole Un seme Di tier 3 Per il crafting Quindi io devo prima Fare una sorta Di questo circolo Viziosissimo Ho finito tutti i semi No ce li ho Andiamo qui E buttare dentro Quello inferiore E dei semi Ok Meno male Grazie a Dio È veloce Perfetto Ce ne fa uno E ce ne fa due Togliti Poi ci dobbiamo buttare Il prudentium Ma il prudentium Cacchiarola Ce n'abbiamo poco Quindi facciamo così Oddio potrei combinare Quattro di questi No non posso farlo Mi serve il coso Peccato Buttiamo dentro questo Facciamo così Oppela E come potete vedere Non succede niente Perché non succede niente C'è un intermezzo C'è una via No inferium Fermi tutti Non mi dire che ne vuoi otto Ti mangio il culo Ne vuole otto Ne vuole otto Mi fate sprecare questi Maledetti Bastardi Ok Ok Sta lavorando Sta lavorando Triste ragazzi Triste Ok abbiamo l'inferium Poi dobbiamo mettere qui dentro questi due E ci da quello E poi purtroppo Dobbiamo sprecare Due di questi Uh è vero no ci da il supremium Questo Buono E un bel pezzo di quarzo Quarzo che sta nel nether È una rottura di cacchio Ogni volta andarci E che quindi Sinceramente io vedo Molto molto bene Nel farci una bella Piantina Soltanto che Il quarzo Non lo vedo E non vorrei averlo utilizzato Tutto Però è facile che io non veda Quindi ricontrollo due volte Sempre Dove Dove sta il mio amico quarzo Ragazzi Il quarzo Non c'è Non è vero Stava qua Oh se Se cazzo se Perfetto Boom Buttiamo dentro questo Buttiamo dentro questo Che cazzo stai facendo No 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 Fermo 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 Ma sei babbeoide Sei un babbeoide O non sei un babbeoide Brutto figlio di Una brava persona Guarda che mi sta facendo Ma Tier 3 Questo è tier 3 Oh shit Signori ho fatto una cazzata Ho fatto un'emerita cazzata Questo seme qui Non è il crafting seed È l'inferium seed Significa che ci da L'inferium Voglio morire Eccolo È questo Il base Seed Che si fa Con il prosperity Shard Ma che segaccia Che sei Marcus Crone Che segaccia Quindi dobbiamo rifare Questo lavoro qui Vediamo un poco Con l'inferium No con i seed Yes Facciamo Un crafting seed Perfetto Merda Questa cosa Mi Mi lascia Mi sconsola un pochino Perché vabbè Sono un po' tristo Ok Facciamo Il livello 1 Perfetto Eccolo qui Ed eccolo qua Perfetto Poi ci dobbiamo mettere Il livello 2 Che non si fa così Perché questo qui Vuole il livello 2 Che è questo Il prudentium Ricordiamocelo sempre E ne vuole sempre 8 Maledetto Meno male che ho trovato qualcosa Nel reward bag Ah no Ah no Due soli Ma io ti love Tier 2 crafting seed Sì Yes Bene Quindi posso mettere Uh Adesso 4 Bello Se Se viene da noi Ci piaci Ci piaci Ok Tier 3 Ci posso mettere il quarzo Giusto Ci posso mettere questo Non funziona Perché ne vuole Di più Ne vuole 8 Quindi ci lo buttiamo dentro Ragazzi Oh Pronto Signorina Favorisca il bietto 4 di quarzo 4 4 di quarzo Nibica Ci stanno Sì E ci stanno Ci stanno Ci stanno Ci stanno Vieni qui Oh Sentite che Sentite che piacere Ragazzi Oh sì Aspetta 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 Ah Il sit Di quarzo Bello Oh sì Oh sì Sarà Un enorme Dov'è il mio martello Mi sono perso il martello Ehi bella Datemi un martello E non me lo dai Abbastardo Intanto passa un elicottero Upa 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 Allora Il nostro quarzo Ci sarà utilissimo Perché Perché serve davvero Tanto quarzo Per Quella Appled Energistic Per la Refined Relocation Però Però Secondo Possiamo potenziare La crescita Di questo quarzo Grazie a un'altra mod Che diciamo Non è Non è la mia preferita Però se proprio dobbiamo farla Non c'è Uh Non c'è Davvero Ero convinto Che ci fosse l'agricraft E invece no D'accordo E ragazzi Guardate qui Il grow Accelerator Iniziamo A far laggare male Questo server Vuole Due bloc Quattro blocchi Di bombilla Sul serio Ce l'avrò Perché ne ho usata Un bel po' Ultimamente Forse Forse ce l'abbiamo Per evitare di fare figure Barbine Io direi di buttarli qui dentro Che lui ti dà I sicuri Quattro pezzi Se non sbaglio Sei pezzi Molto Molto good Andiamo a prendere Anche un secchiellezzo D'acqua Che ce lo dovrei avere Eccolo qui Un po' di teva Molto bene Molto bene Un po' di teva E dovrei mangiare Delle patate Mangiamo delle patate Marcus Crono Dove le hai messe Le patate Le ho messe proprio qua Non è vero Non ci stanno Marcus Dove sono le tue patate Where are my patata Mi mangio quelle cotte Quelle scrude No non è vero Le metto a cuocere Ok Intanto lentamente Me ne vo Quaggiù A mettere il nostro ciccio ciccio Speravo che effettivamente Ci fosse l'agricraft Perché non è che mi faccia impazzire Come mod Ma poi alla fin fine C'ha quella cosa fantastica Che i seed crescono Invece in questo caso Il seed non cresce Rimane qui Tu fai così O butti sopra E palapim pam pam Certo è pur vero Che questo seed Ci mette 150 anni a crescere Ma con il gros accelerator Mmm Mmm È tutta un'altra storia Quindi Oppela Oppela Ah e se pensate Che questa cosa sia troppo OP Sappiate Che in questo pack C'è la Philosopher's Stone C'è una mod Che emula La Philosopher's Stone Ragazzi Mamma mia Sapete perché Perché così puoi ottenere Semplicemente tutti i materiali Senza doverti sbomballare il cazzo Questa qui è la Simple Life Non c'è mai stato scritto Che non è OP È semplicemente scritto Che le cose si fanno più semplici Quindi ci sta un cifro Secondo me Una cosa del genere Torniamo al Grow Accelerator Però io in tutto questo Voglio dargli questa Sorta di Vediamo Poi era questo Yes L'Intermedium Voglio dargli questa sorta Di Imprinting In cui sotto siamo tecnologici E sopra Continuiamo a essere medievali Al massimo Lo facciamo diventare Steampunk Così si crea Questa E sotto ce ne sbatte Il cazzo dell'estetica Ve lo dico Sopra no Sopra no Sopra no Quando avremo un sacco di materiali Potremo cambiare le costruzioni E farle di ferro Sì di ferro Di pietra Oppure di Sandstone Sandstone Non mi ha mai fatto impazzire Quindi forse No Però va bene Diamanti 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 Grow Accelerator Boh Mamma mia C'è una versione livello 2? No No Attenzione Che ci ha sbloccato La questina Il problema È che non ho idea Di dove stia Non ho davvero idea Di dove sia Tutto il resto Cioè Non so dov'è Grand Design Starlight Eh non vedo l'ora Di sbloccare Starlight Sono tante altre mod Abbastanza interessanti E voilà Abbiamo il nostro Grow Accelerator Che credo Però Funzioni Sotto Sì è la vecchia versione Funzioni qui sotto Cioè lo devi mettere sotto Per farlo crescere Ai veri Non ho E il bello Che di questi Sinceramente Vediamo quanti buon mille Ci ho Me ne posso fare tanti Dove con tanti Intendo altri Cinque Oh yeah Andiamo Vediamo se è cresciuto Quattordici per cento Quattordici per cento Che carino che sei Quindi facciamo così 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 E no Me ne manca Ne manca One Vieni qui Sbada Sbada E sbada Saliamo Al nostro builder Servono 25 Oh Ma io non lo cago Non lo cago Perché purtroppo Mi ha appena morto Un altro Un altro guardiano Fanno troppo schifo Quelli livello 1-1-1 E quindi muoiono E basta Prendono solo Pizzoni Quello che voglio sapere È se possiamo fare Una combo Intelliziente Con il nostro Iron planter Ovviamente Gli dobbiamo rimettere Queste qui Io faccio Direi Un Ecco per essere sicuri Che prende anche qua E ci possiamo andare A mettere dentro Block of coal No Assolutamente no Cettiamo dentro Soltanto questi qui Attenzione 86% Lo scopriremo subito Ci vuole Una Una ore Attenzione Vediamo Sentite com'è Sentite com'è piacevole Tutto questo ragazzi Questo È il suono Delle sussità Che si avvicina È l'esussità Oh mio Dio Posso fare la diorite Con il quarzo Sul serio E Sette pezzi Ci danno 12 di quarzo Mentre Ah Dei semi Sono loccati Con la botania Pensa che figlio Di puttana Ragazzi Dei semi Non li puoi fare Uh Guardate 86 Che spettacolo Oh Maturo Bababia 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 Allora Io direi Di andare A dare un'occhiata Quanto di questo Abbiamo Perché se non iniziamo A produrlo Ragazzotti Prima o poi Ci finirà Perché io sto giocando Soltanto grazie Al mio ex Supremium Che adesso è diventato Superior E che faccio L'intermedium Ok Sì Io so Un po' Gioco di parole D'imberda Però Il fatto è che L'imperium Lo posso far diventare Così con questo Perfetto E Questa qui È l'infusion crystal Di livello base Infusion crystal Poi c'è la master Che invece Ci permette di fare Tutti i crafting Che ci pare Purtroppo La master Si fa Soltanto Col Supremium E noi ci attacchiamo Un pochino Questo qui Dovrebbe Ogni volta che Cresce Darci tre livelletti Cioè Darci tre di questi E quindi Più possibilità Cioè Più materiale Per ottenere poi Quello finale Io direi Di andare a Metterlo direttamente Qui sotto Andare a fare Una via di mezzo Sto cacchio di piccone È bello 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 Però è una certa Rompo un pochino Guts Oppela 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 Facciamo 3 e 3 E siamo amici Come prima Voilà Et voilà Per Per Perfecto No Questo è un blocco Di cane Il blocco Di cane Marcus Crone 2015 Molto bene Bene ma non benissimo Togliti tu Se ci mettessi una torcia Qui sarebbe Duopo La metti qua Tipo No Non vuole Mi odia Mi odia fortissimo Andiamo a metterci Un cubetto di dirt Eccolo qui Vai Piazzalo qui What the fuck Is this What No Non ci posso Non ci posso Credere Non ci posso Credere Non ci posso Credere Ma che cazzo Mi sta dicendo No ragazzi ma è assurdo Si espande Si espande No vabbè No vabbè No Vabbè Fermi Perché adesso no Oh mio dio Oh mio dio Si espande Questo qui È Inferium Essence Ok Cioè ma come cacchio Ma tu stai fuori Ok Simple life Ma questo qui È opposissimo E io pensavo che volessi L'agricraft No Non ne ho bisogno Cioè si espandono Ok D'accordo Perché l'inferium seed Non mi cresce Eppure c'è sotto Ciccio ciccio Forse è più difficile farlo crescere Di quest'altro Lo sono entrambi tier 3 Ciccio come mai non cresci eh Dai Dillo a pavattua Come dai non cresci Ma guardate qui Ma guardate qui La velocità Ah No Non è così Non è così guys Ho frainteso Non si espandono Ma ogni volta che questo Viene rotto C'è una possibilità Che ci dà un nether quartz seed Nuovo E lui attende Soltanto un punto Dove metterlo Quindi se io faccio così Eccolo là Lui lo piazza Da solo Allora E meno OP di prima Però il fatto che ti diano così tanti semi In così tanto poco tempo Significa che l'ha modificato di certo E noi ragazzi abbiamo già ripreso Il nostro mal tolto Di quarzo Fantastico Sì mi posso fare l'arma Con 5 modificatori di quarzo E siamo fortissimissimi Questo non mi cresce però È rotto Sei rotto? O forse vuoi No voleva una luce Voleva una light Vediamo se abbiamo una light Da qualche parte Pronto Però Qualcuno mi aiuti Col fatto del torch Ecco Grazie Col fatto dell'inventare Più che altro Chissà se la prossima puntata Riesco a fare L'aplied E poi non si chiamava Aplied però Eccolo vediamo Vedete Ha preso un inferior seed Io lo prendo Lo tolgo E non lo pianto lì Perché altrimenti Lui non lo Basta piccone Hai rotto il calcius Ok Oh yes Inferio seed C'è una data di 3 Perfetto 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 Andiamo A fare Una infusion Una infusion crystal Quindi ci serve Bimbiri bimbi bimbi E bimbro bomb Questo lo togliamo Eccola qua Bam Ne facciamo una soltanto C'ha 2000 usi Il che significa Che io posso prendere Tutto l'inferium Che c'ho Ok Convertirlo In prudentium Bam Bam E bam Perfetto Prendiamo tutto Il prudentium Che ho Lo convertiamo In intermedium E così via Ragazzotti Fino ad avere Uno solo Di su premium Se ne avessimo avuto Di più Avremmo potuto fare La master Che è quella definitiva Ma Per adesso Noi abbiamo Comunque Una farmina Di quarzo E Di inferium Per l'appunto E infatti qui Già ne troviamo tre E così via Dobbiamo Spammarlo Tantissimo Al fine di arrivare A avere Un botto Un botto Un botto Di inferium E poi quindi Di conseguenza Tutti gli altri Per poter fare I semini Cicciotti Cicciotti Guardate qui Mamma mia 5 altri 5 di qua Mamma mia Che spettacolo E qui ci stanno Altri Due di Netherquartz Quindi qui Si prospetta Una serie Oltre che Coloniosa Anche Esosa Ragazzotti Io vi saluto Con queste News Fantastiche E' una serie strana E' una serie tipica Spero che vi piaccia Prossima puntata Andiamo in un altro mondo Bella regà Ciao